Abbiamo le visite del CIO, abbiamo degli incontri importanti e soprattutto abbiamo dato avvio a quello che poi è la redazione del dossier finale. E' quello che più ci interessa di essere assolutamente rispettosi di ogni data. Beh, guardi, in Veneto si dice che non servono i soldi, bastano le idee, quindi andiamo avanti.